Vi stiamo presentando i candidati al Consiglio Comunale nella nostra lista Taranto senza Ilva. Quest'oggi è la volta di Angelo Roberti. Allora Angelo intanto presentati alla città, ti conoscono in molti, ma è giusto dire chi sei e poi per quale motivo hai aderito al nostro movimento e hai accettato il mio invito di essere candidato nelle nostre liste al Consiglio Comunale. Allora, come tu hai detto, io sono Angelo Roberti e sono una guardia giurata e niente, sono stanco di queste oppressioni a livello comunale, a livello occupazionale, a livello ambientale, perché ormai non se ne può più. Tutte le vecchie giunte comunali promettevano, promettevano, ma non promettevano nulla, erano solamente parole al vento. Qui bisogna avere solo i fatti e quindi con la tua lista, con la mia candidatura e con gli altri colleghi cercheremo di poter cambiare tutte queste malefatte che ci sta facendo. Un minimo Comun denominatore, un punto imprescindibile, la chiusura dell'Exilva, la chiusura del mostro senza sé e senza ma, la richiesta da parte di Acciaierie d'Italia di 3.500 unità in cassa integrazione, si sommano ai 1.700 di lavoratori Exilva in AS, ai numerosissimi centinaia e centinaia di dipendenti delle ditte dell'appalto che non percepiscono stipendi da mesi. Quindi, alla fine, dal punto di vista economico come stipendi, stiamo parlando del nulla, di miserie. Mentre prima lo stipendio arrivava a fine mese, ora non c'è più neanche quello. E si unisce a questo il dramma ambientale, l'ONU ha definito Taranto tra le prime tre città più inquinate al mondo. Angelo, chiusura senza sé e senza ma, non c'è altro da dire. Sarà una lotta molto dura. Io mi auguro che questa guerra sia vinta, non solo da te, ma da tutti i cittadini di Taranto, perché ormai siamo stanchi. Questo mostro non fa altro che uccidere persone, bambini, persone adulte, persone di mezza età. Prendo un punto di riferimento della grande Nadia Toffa. Indimenticabile. Indimenticabile, Nadia Toffa, che nonostante che non era del territorio, stava lottando per questa chiusura. Una tarantina d'adozione, una tarantina nel cuore. È stata una tarantina d'adozione e tutti quanti, almeno chi è cosciente, la porterà sempre nel cuore. Io mi auguro solamente che le prossime elezioni abbiamo il potere della matita. Quindi, avendo questo potere della matita, di cambiare questa città. Perché abbiamo tante risorse. Abbiamo il mare, abbiamo l'agricoltura, abbiamo il turismo, cosa che ancora non viene sfruttata. L'agricoltura è morta perché è stata piena di diossina. Il mare è la stessa cosa. Quindi cerchiamo almeno... Il patrimonio storico, l'archeologia. Come no? Abbiamo una città vecchia che è invidiata da tutta Italia. Cosa che sta cadendo a pezzi. Ora, io mi metto nelle mani dei cittadini. Quindi avete un grande potere, la matita. Se volete... L'arma più potente. L'arma più potente. Quindi avete il potere della matita. Una sola croce. Taranto senza ilva. E ricordiamolo, questo è importante. Noi corriamo da soli. Da soli rispetto ai partiti che hanno ammorbato e distrutto Taranto. Noi corriamo accanto ai cittadini. Noi non partecipiamo al mercato delle vacche, alle spartizioni, alle promesse di posti di lavoro, alle divisioni. Tu mi porti i tot voti e io ti do l'assessorato, ti do il posto nella società partecipata. No, noi parliamo in maniera molto chiara ai cittadini. Noi non faremo favori personali. Noi creeremo le occasioni, i presupposti per cambiare Taranto, proprio sotto l'aspetto dello sviluppo economico del territorio. Ed è giusto, perché deve essere così. Perché le promesse, purtroppo, sono solamente delle parole che se ne vanno al vento. Qui abbiamo bisogno di fatti. E fatti non ce ne sono stati da anni. Quindi ora il popolo cittadino di Taranto vuole solo e soltanto i fatti. Sì, perché le parole vanno via col vento. Ora non lo so, ripeto, mi metto a vostra disposizione qualsiasi cosa. Io sono sempre in giro, anche per il lavoro che faccio. Quindi qualsiasi cosa potete chiedermi e vi sarà data la risposta. Vedete, noi siamo uomini di strada, nel senso più nobile del termine. Significa avere un contatto diretto con il cittadino. Melucci si era arroccato a Palazzo di Città e aveva perso completamente il controllo, la cognizione, il tatto, ecco, diciamo, della città. Invece bisogna essere accanto alla gente. Io in vent'anni di attività giornalistica ho dato voce a chi non ha voce. E da giugno lo farò come primo cittadino. Un buon amministratore della città deve ascoltare sia il bene che il male. Quindi un buon amministratore deve girare, deve girare, non entrare nel palazzo di città, stare seduto e non fare più niente, aspettare solamente i convegni, tutte queste cose. Tagli di nastro, le inaugurazioni. Tutte le inaugurazioni. Ora sta girando Melucci, per quattro anni e mezzo non lo abbiamo visto. È normale, perché ormai sono in campo le elezioni e ora escono tutti i politici fantasmi, perché sono solamente dei fantasmi. Quindi io quello che dico, quello che dico, un buon amministratore deve girare in tutta la città e vedere tutte le problematiche che ci sono. Io da sindaco intendo certamente raccogliere il consenso, l'ammirazione, ma anche, tra virgolette, gli schiaffi dei cittadini in senso metaforico, le critiche. Se fai il sindaco devi essere a disposizione, devi anche saper prendere le critiche, le contestazioni, non chiudersi nella torre d'avorio. Altrimenti non fare il sindaco, caro Melucci. Non avessi fatto il sindaco, avessi fatto il sacrestano e sicuramente non avresti avuto di quei problemi. Da un lato abbiamo Melucci e dall'altro abbiamo il centrodestra, o meglio, un finto centrodestra con un candidato di sinistra, dichiaratamente di sinistra, Walter Musillo. Allora l'appello che noi rivolgiamo, Angelo, agli elettori di destra e di centrodestra, io rispetto ogni ideologia, non potranno mai andare in cabina elettorale e votare un uomo di sinistra pittato, diciamo così, da uomo di destra, da candidato sindaco del centrodestra. Per cui l'appello a premiare la nostra trasversalità, le nostre idee, il nostro impegno, il mio impegno, scusatemi la presunzione, vent'anni di battaglie giornalistiche contro il sistema, a tutela dell'ambiente, contro il malaffare pubblico e privato. Ho evidenziato in tantissimi casi tutte le distonie, le discrasie, i casi assurdi di invivibilità urbana. Per questo, Angelo, noi chiediamo il voto come premio a un impegno di tanti anni e per premiare anche la gente nuova, la gente come te, la gente che è stanca di subire e che vuole dare una svolta a questa città. Non siamo presuntuosi, avremo anche i nostri limiti, avremo anche i nostri difetti, ma ci mettiamo la faccia e soprattutto siamo puliti, parlano le nostre fedine penali. E' giusto che sia così, perché purtroppo qui vediamo che tutti questi politici, come tu hai detto, dal centro-sinistra passano al centro-destra. E viceversa. E viceversa. Quindi la gente deve farsi un esame di coscienza e deve, come dire, avere una dignità. Io la cosa che voglio dirvi è solo una. Non vendetevi per una busta di spesa, per un bono di carburante, per una bolletta pagata, perché queste sono cose che vanno via al più presto possibile. Quindi la cosa che io vi dico e concludo è mettetevi una mano sulla coscienza. Se amate la vostra città, l'unica lista civica è Taranto senza ilva.